A voi tutti amici salentini, amici di Telerama, eccoci qua come sempre un saluto da Giuseppe De Vitis. Beh, questa è la previsione per il 29 di settembre, ovvero per San Michele Arcangelo e lo sanno tutti che per San Michele l'uva è come il miele, ma non solo l'uva, anche il tempo avremo un'altra bella giornata abbastanza tranquilla, abbiamo avuto nei giorni scorsi, sì, cielo prevalentemente sereno, qualche nuvola e qualche disturbo locale nelle ore più calde della giornata e pochi saranno i cambiamenti anche per la giornata di giovedì, quindi cielo sereno poco nuvoloso, qualche modesto annuvolamento o addensamento nuvoloso su zone ioniche o in parte su zone interne. Quindi una dolce giornata con temperature che tra l'altro continueranno, seppur di poco, ad aumentare. Andiamo infatti a vedere cosa accadrà dal punto di vista termico. Beh, temperature, passiamo alla grafica successiva, sta per arrivare, promesso, non arriva quest'oggi, eccola qua. Guardate, temperature minime comprese tra i 13 e i 17 gradi, comunque sempre fresco, temperature massime invece, miti, dolci, con valori compresi tra i 24 e i 27 gradi. Il vento debole, variabile su zone ioniche, come al solito, con mari quasi calmi, poco mosso l'Adriatico perché ancora ci saranno dei rinforzi da nord, rinforzi da nord anche nelle zone un po' più interne, centrali del nostro Salento. È tutto, buon proseguimento di giornata.